Abbiamo Claudio Di Ciaccio, coach di questo minturno che quest'anno insieme alla Virtus giocherà la C2. C'è stato amichevole quest'oggi con la Virtus, ma il risultato conta poco, conta comunque iniziare la preparazione a un campionato che a fine mese partirà. Allora le prospettive del minturno, mi sembra che siano buone, a parte il discorso di altre squadre che puntano la vittoria, ma credo che il minturno principalmente pensa a restare nelle categorie, credo, no? Sì, noi di fatto non pensiamo alle altre squadre, pensiamo a noi stessi, quindi come tale noi faremo il massimo e daremo il massimo in campo. È ovvio che sarà un campionato abbastanza equilibrato, quindi poi il verdetto finale lo detterà appunto il fischio finale. Quindi noi sicuramente, le nostre verità sono sempre due dalla salvezza, cercare di far bene sicuramente e poi se i risultati vengono, come si dice, l'appetito mi mangio anche, quindi se qualche risultato in più arriva non disdegniamo da accettarlo, insomma. È stata una cosa improvviso il suo ingaggio da tecnico, si aspettava oppure era previsto che avrebbe fatto parte del granegramma del minturno? Già faceva parte dal tempo, quindi è stata una cosa a sorpresa la messa fuori, anzi, in dimissione del tecnico precedente. Ma diciamo che io dovevo un attimino rivestire la parte del settore giovanile, quindi coordinare e gestire un attimino tutto il settore giovanile. È ovvio che le problematiche che hanno investito il Ministero di Riamante ci hanno un attimino destabilizzato, anche perché all'inizio di una fase di preparazione, quindi anche alle porte di un campionato, dopo che lavoravo tanto durante l'estate, non era facile mantenere la tranquillità nell'ambiente e nello stesso tempo ricercare la guida che fosse più donna per questo gruppo e per questa società. Ero disponibile io perché mi ero svincolato anche da diverse panchine del basket, quindi ho dovuto scegliere, ho preferito ovviamente scegliere la S&D mi turno, quindi sono contento della candidatura, non me l'aspettavo perché, ripeto, ero destinato a tutt'altro al momento e quindi niente, la prendiamo così e daremo il massimo con questa nuova esperienza. Vedo comunque che a parte la squadra, ma l'organiciamo società del min turno, mi sembra messo, fatto bene, nel senso che ogni persona può essere giusto, questo che significa che si punta negli anni a molto in alto oppure basta una C1 tranquilla? No, la società sta muovendo i passi pizzico alla volta, nel senso che pensiamo che l'organizzazione, è una struttura forte e dia poi la possibilità di una stabilità, quindi le cosiddette fondamenta di una società e di tutto ciò che è ruota attorno, quindi una prima squadra, un settore giovanile e via di scappare. È ovvio che una solidità tale ti consente quindi di poter muovere dei passi. La C2 è sicuramente un punto di inizio, non è un punto d'arrivo della società, è ovvio che per salire di Coteoria ci vogliono tante situazioni che insieme favoriscono questa salita, per cui la società farà questi passi a tempo debito, ma soprattutto quando può farli, quindi stiamo piampiando, piampiando diciamo concentrandoci su quello che stiamo facendo e soprattutto su una struttura sportiva che è del tutto appartenente all'esterno di Vinturno, quindi creiamo un attimino tutto ciò che ci serve per poi. Un bel passport tutto di Vinturno? Noi ce lo auguriamo, poi quella è l'idea, poi vediamo un attimino. Voi vi guardate comunque intorno con una società, perché giustamente la zona di Vinturno è importante con una società di serie D di calcetto. C'è il marino che mi sembra che si è strutturato anche abbastanza bene a livello giovanile. Avete preso l'ultimo appoggi per cercare di rimpinguare anche il discorso giovanile della squadra? Allora, sicuramente la nostra società è una società aperta, nel senso a tutti è una società che ha voglia di collaborare, di non lasciare nulla al caso. È ovvio che ritengo importante prima gestire bene tutto all'interno e contestualmente poter essere poi importante per offrire qualcosa anche all'arte società, perché giustamente la collaborazione si fonda su due rapporti, noi e l'arte società, per cui quelle che sia, insomma, olimpico o altro. E quindi se loro danno una cosa a noi non è giusto che diamo una cosa a loro, per cui strutturati in questo senso siamo poi in grado di poter sicuramente implementare un rapporto di collaborazione di tutti. Parliamo di questa C2, Virtus, Fondi l'abbiamo vista, Mintun lo conosciamo già. Ci sono altre squadre, tipo l'Atletico Forme, che a quanto pare punta un campionato di medio-alte classifiche. Avete già analizzato anche il girone nel calendario? Chi sono le squadre che potranno dare fastidio? Sicuramente abbiamo un discorso Atletico Forme che è un discorso di derby, quindi indipendentemente dagli obiettivi di entrambe le società, lì c'è un discorso derby che fa testo a sé, possono essere anche squadre non votate, però il derby è derby, quindi ciascuno vuole fare bella figura, e quindi tra l'altro sarà una partita difficile. C'è il Zabaudia, che secondo me è una di quelle al momento votate e candidate a fare un ottimo campionato, non sta anche tutto ciò che sta facendo. E poi ci sono il girone, c'è la Virtus, che sicuramente è un'ottima squadra, il girone che abbiamo preso è un ottimo girone nel senso positivo, cioè ci sono delle importanti squadre, però non dovrebbe essere così forte come quelle di prendere delle squadre romane. Quindi sì, diciamo che stilando una classifica ci sono buone possibilità per far bene, poi è il cambio, io continuo a dire che abbiamo perso in passato partite anche con le ultime classifiche, quindi non c'è una regola. C'è la regola di stare concentrati, di dare il massimo e poi il campo, e lo è giusto giudice. I prossimi passi, quali sono altri amichevoli programmate oppure solo preparazione a qui alla finita mese? No, un'altra amichevole sicuramente programmate, adesso ci dovranno confermare con l'altra società di fondi, ma soprattutto l'obiettivo è quello di recuperare un attimo tutta la rosa, perché oggi siamo venuti un po' rimaneggiati qui, abbiamo fatto un'ottima partita, nonostante non avessimo tutti a disposizione. Un 2-2 che c'è sta tutto, dobbiamo pensare adesso a recuperare tutti i giocatori che hanno avuto qualche difficoltà in questa settimana e poi poter pensare ad amichevole e quindi poi avvicinarci un po' all'inizio del campionato. Grazie alla prossima. Ci aspetta una bella partita, insomma, fuori cassa. Anche perché uno pensa che comunque questo campionato diventa il 27 prossimo e la data è vicina. Sì, sì, io credo che sarà un campionato di interesse, perché lo vedo abbastanza equilibrato e bello. Grazie, alla prossima. Salute a tutti.